Il mitico Bogart Il mitico Bogart Il mitico Bogart Il mitico Bogart avevo visto migliaia di variazioni della decorazione in cui la spada era stata sostituita da una siringa. Progetto Valhalla, B per Valkyria, B per Valhalla. Improvvisamente il tutto aveva l'aspetto di una perversa cospirazione. Poi stapparciare esplodere! Odbordiamo! Grazie per l'attenzione. Come dall'inizio del caso Valkyria, il codice della porta restava per me un mistero. Il chimico stava utilizzando la console, amore. Su schermo era segnata la vita media del topo di laboratorio insieme alla Pasqua. Il codice di sicurezza era 665, ma il prossimo è la bestia. Il codice di sicurezza. Ehi, c'è qualcuno! Attenzione a tutti i personaggi! Sono inocente! Seguenza di aumosizioni è avutata. Procedere a un'epoca di un'epoca su uscita più vicina. Grazie. Pensavo che sarei certamente morto qui dentro. Devi aiutarmi a passare attraverso la camera di decontaminazione. Sei pazzo! Neanche per sogno! Questo luogo sta per esplodere, non vedi? O così o te le torni in cella. Scegli tu. Ok, ok. Adesso me ne occupo. Siamo tutti salti, siamo forzati! Attenzione a tutti i personaggi! Seguenza di aumosizioni è avutata. Di contramenza di aumosizioni è avutata. Decontamination code. Ero rimasto intrappolato nella rete mortale del caso Valkyria. Ero rimasto intrappolato nella rete mortale del caso Valkyria. Ero rimasto intrappolato nella rete mortale del caso Valkyria. Ero rimasto intrappolato nella rete mortale del caso Valkyria. Le vergini che sceglievano i guerrieri vichinghi più valorosi e poi li portavano nel Valada. 1991. Lo scopo del progetto è di creare una sostanza chimica capace di aumentare il coraggio e la resistenza delle truppe di terra. 1995. Risultati insoddisfacenti. Progetto annullato. Qualcuno doveva aver continuato la ricerca senza autorizzazione. Progetto compromesso. Fuga di informazioni. Bisogna chiudere la falla a tutti i costi. Controllo di sicurezza a livello rinso autorizzato dal responsabile del progetto. Prova sul campo. Raddoppiare le dosi per tutti i soggetti restanti. Osservare e registrarne il comportamento nell'ambiente urbano. Il luogo dell'operazione corrispondeva al mio vecchio indirizzo del New Jersey. La data era quella di tre anni fa. Proprio quando credi di essere piombato nel più profondo degli orrori, scopri di poter scendere ancora più in basso. Come potevo ammuturire la sua dente vocina dentro la mia testa, secondo la quale adesso ancora più di prima la mia vendetta era finalmente giustificabile, sotto qualsiasi scala morale. La sua dente vocina provava, oltre ogni dubbio, che la mia esistenza era ormai dannata. L'arbia senza pietà era entrata e uscita tanto tempo prima della mia vita. Non avevo altro da fare come luogo. Il nome del bunker era premonitore di una formazione poco piacevole. L'arbia senza pietà. L'arbia senza pietà. L'arbia senza pietà. Pren Trezza... ... Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS La prova del progetto Valhalla erano quei maledetti sbandati che avevano ucciso le persone che mi amavo Il resto era stato solo un conteggio di cadaveri Tutto puntava a lei, la signora Valkyria La fabbrica era esplosa alle mie spalle in un mare di fiamme Tutte le mie prove erano finite in fumo e ceneri Avevo perso la strada Non dormivo da un milione di anni